Dal libro di Esdra Gli anziani dei giudei continuarono a costruire e fecero progressi. Grazie alla profezia del profeta Aggeo e di Zaccaria, figlio di Iddo, portarono a compimento la costruzione per ordine del Dio di Israele e per ordine di Ciro, di Dario e di Arta Cerse, re di Persia. Si terminò questo tempio per il giorno 3 del mese di Adar, nell'anno sesto del regno del re Dario. Gli israeliti, i sacerdoti, i leviti e gli altri rimpatriati celebrarono con gioia la dedicazione di questo tempio di Dio. Offrirono per la dedicazione di questo tempio di Dio 100 tori, 200 arieti, 400 agnelli e 12 capri, come sacrifici espiatori per tutto Israele, secondo il numero delle tribù di Israele. Stabilirono i sacerdoti, secondo le loro classi, e i leviti, secondo i loro turni per il servizio di Dio a Gerusalemme, come scritto nel libro di Mosè. I rimpatriati celebrarono la Pasqua il 14 del primo mese. Infatti, i sacerdoti e i leviti si erano purificati tutti insieme, come un solo uomo. Tutti erano puri. Così immolarono la Pasqua per tutti i rimpatriati, per i loro fratelli sacerdoti e per sé stessi. Andremo con gioia alla casa del Signore. Quale gioia quando mi dissero, andremo alla casa del Signore. Già sono fermi i nostri piedi, alle tue porte, Gerusalemme. Andremo con gioia alla casa del Signore. Gerusalemme è costruita come città unita e compatta. È là che salgono le tribù, le tribù del Signore. Andremo con gioia alla casa del Signore. Secondo la legge di Israele, per lodare il nome del Signore. Là sono posti i troni del giudizio, i troni della casa di Davide. Andremo con gioia alla casa del Signore. Dal Vangelo secondo Luca In quel tempo, andarono da Gesù la madre e i suoi fratelli, ma non potevano avvicinarlo a causa della folla. Gli fecero sapere, tua madre e i tuoi fratelli stanno fuori e desiderano vederti. Ma egli rispose loro, mia madre e miei fratelli sono questi, coloro che ascoltano la parola di Dio e la mettono in pratica. E la parola di Dio, La parola di Dio,